Benvenuti o bentornati in un video del Centro Studi e Ricerca CTA 102. Sono Marzio Forgione e questa volta mi occuperò della figura di un personaggio molto noto a chi si è occupato di ufologia e che generalmente gode di una certa stima e credibilità tra gli appassionati della materia. Parleremo infatti dell'astronomo Joseph Allen Hynek, il quale, prima di divenire un convinto uforgo, militò nelle fila degli scettici più accaniti. Tuttavia esistono certi bizzarri elementi biografici che stridono con quell'immagine di integerrimo studioso e di scienziato al di sopra delle parti che la letteratura di settore ci ha consegnato e che rimodellano diversamente il personaggio. Fu nel 1966 che lo stimato astronomo Joseph Allen Hynek si trasformò e pare improvvisamente da determinato implacabile critico ad ardente apostolo del Vangelo degli UFO. Già consulente di lunga data del Project Blue Book e noto negli Stati Uniti per il suo atteggiamento scettico verso gli UFO, Hynek cominciò improvvisamente a dire a chiunque lo ascoltasse che il fenomeno UFO meritava un serio esame scientifico. Il grande regista Stanley Kubrick fu tra i molti che lo ascoltarono. In un'intervista alla rivista Playboy del 1968, realizzata per promuovere il suo epico film di fantascienza 2001 Odissea nello spazio, Kubrick parlò con approvazione di ciò che egli definì la tardiva ma esemplare conversione di Hynek. In realtà questa conversione non pare affatto essere quell'evento eccezionale che tanto stupì gli ufologi. È possibile infatti che i prodromi di questa mutazione siano rintracciabili nell'adolescenza di Hynek, quando i suoi interessi erano rivolti, seppur non apertamente, all'esoterismo. Il francese Jacques Vallée, scienziato informatico e autore di molti testi sugli UFO, fu di fatto una delle poche persone a conoscere questa segreta pagina della vita di Hynek. Nel suo volume Forbidden Science del 1992, Vallée scrisse che un giorno Hynek gli confessò di essere diventato astronomo per scoprire i veli limiti della scienza, i punti in cui era venuta meno, i fenomeni che non aveva spiegato. Fatto sta che il pubblico cambiamento d'idea dello scienziato conferì un grande impulso al movimento UFO, attribuendogli una certa dose di credibilità e conferendo contemporaneamente ad Hynek la fama di principale esperto nazionale sui dischi volanti. Per due decenni il pubblico interessato al fenomeno fu sostenuto dalla convinzione che se Hynek, scienziato esperto e valente astronomo, credeva nelle questioni riguardanti gli UFO, allora qualcosa di vero ci doveva essere. Dunque, chi era Joseph Allen Hynek? Nato da genitori di origine cieca nel West Side di Chicago il primo maggio del 1910, curiosamente solo pochi giorni dopo che la cometa di Halley aveva virato intorno al Sole, il giovane Joseph fu ben presto avviato all'interesse per l'astronomia grazie alla madre Berta, insegnante in un liceo locale. Nel libro di Theodor Birkland, The Scientific Life del 1962, Hynek racconta. Quando avevo sette anni ebbi la scarlattina e fui messo in quarantena con mia madre nel nostro appartamento al numero 15 di Ayers. Non c'era niente da fare se non leggere e poiché ero molto giovane mia madre lesse per me. Ben presto terminammo i libri per bambini e lei iniziò la lettura di libri di testo. Tra questi c'era un libro di astronomia del liceo, credo sia stato quello che mi interessò di più. Evidentemente però i libri di testo di astronomia non bastavano a fornirgli le risposte che voleva e così, da pedante adolescente, Hynek iniziò a studiare quelli che lui definì argomenti esoterici. Dopo aver approfondito ampiamente queste materie, egli sviluppò una particolare predilezione per gli iscritti delle società segrete rosa-cruciane, con le loro allettanti promesse di antiche conoscenze nascoste e per quelli dei cosiddetti filosofi ermetici, per approdare infine al teosofo Rudolf Steiner. In quel periodo il giovane liceale spese addirittura più di 100 dollari, circa 1300 dollari di oggi, per acquistare il tomo grandemente riccamente illustrato del mistico canadese Manly Hall, dal chilometrico titolo, compendio enciclopedico di filosofia simbolica massonica, ermetica, cabalistica e rosacruciana, un'interpretazione degli insegnamenti segreti celati all'interno dei rituali, delle allegorie e dei misteri di tutte le epoche. Libro meglio conosciuto con il titolo più prosaico di Gli insegnamenti segreti di tutte le epoche. Di questo Heineck ne parlò a Jacques Vallée confessando. Tutti i miei amici studenti pensarono che fossi pazzo per il solo fatto che non avevo comprato una moto come invece avevano fatto tutti loro. In ogni caso, fu in quest'ambito che, per scoprire i veri limiti della scienza, Heineck decise di intraprendere la carriera di astronomo. Dopo il conferimento della laurea presso l'Università di Chicago nel 1931, Heineck proseguì verso il dottorato in astronomia. Lavorò sulla sua tesi di dottorato intitolata Studio quantitativo di certe fasi dello spettro di tipo F presso lo Irkes Observatory, una sorta di tempio romanico di astronomia sulle tranquille rive del lago di Ginevra nel Wisconsin. In un'intervista di Ian Ritpert in The Scientist del 1973, Heineck affermò che in quel periodo di pseudo vita monastica a Irkes, il tutto aveva una sorta di qualità mistica. Immagino che questo non lo si dovrebbe dire in relazione alla scienza, ma ero così totalmente assorbito nella vita dell'osservatorio che a malapena avevo sentito parlare di Hitler. Poco dopo aver ricevuto il dottorato nel 1935, Heineck ottenne un incarico come istruttore presso la Ohio State University e quattro anni dopo qui divenne professore. Nel 1948 stava ancora insegnando presso questo Ateneo quando un trio di ufficiali dell'Air Force gli si avvicinò. Cercavano uno scienziato per aiutarli a risolvere un problema sconcertante che si era inaspettatamente presentato. Volevano incaricarlo di occuparsi di quello che diverrà il caso per eccellenza nella storia dell'ufologia, quello che segnerà l'inizio dello studio sistematico di questa complessa e controversa materia. È il 24 giugno 1947. Un uomo d'affari di nome Kenneth Arnold aveva riferito di aver visto una formazione di oggetti luccicanti passare davanti il monte Rainer mentre era in volo con il suo aereo privato. Nelle settimane seguenti, il presunto avvistamento di Arnold, centinaia di persone affermarono di aver osservato simili dischi volanti. Temendo che questi cosiddetti dischi potessero essere degli aerei sovietici, i funzionari della US Air Force costituirono subito, all'inizio del 1948, il Project SAI, una commissione di studio che si proponeva di investigare il fenomeno. EINEC fu quindi reclutato per essere il consulente astronomico di questo progetto. Nel suo ruolo di consulente scientifico del Project SAI, EINEC fece periodici viaggi da Columbus alla base aerea dell'Air Force di Wright-Patterson, dove furono stabiliti sia il Project SAI che i suoi successori, i progetti Graduate Blue Book, e lo fece per esaminare i fascicoli sugli UFO. Subito EINEC si rivelò essere un debunker scaltro e implacabile, uno Sherlock Holmes dei fenomeni del cielo. Nel 1985 affermò, sarei passato attraverso essi per dire, bene, questo è ovviamente una meteora, oppure, questa non è una meteora, ma scommetto che è un pallone sonda. Ero un approfondito scettico e temo di aver contribuito a generare l'idea che il fenomeno UFO fosse una sciocchezza e che quindi non avesse senso. Uno dei primi tentativi di EINEC di screditare il fenomeno, e certamente uno tra i suoi più famosi tentativi, riguardò il caso del 1948 del capitano Thomas Mantel, un pilota dell'Air Force che perse la vita dopo aver inseguito un UFO precipitando con il suo P-51 Mustang. Nella sua relazione sull'incidente EINEC suggerì che l'UFO avvistato potesse essere stato il pianeta Venere, anche se, come ammise in seguito, questo pianeta era troppo debole di essere visibile in cielo in pieno giorno. L'astronomo avanzò allora un'altra teoria, probabilmente più corretta per quel caso. L'UFO che il capitano Mantel aveva avvistato ed inseguito sino ad una quota troppo elevata era un pallone sonda Skyhawk. L'iniziale idea che EINEC si era fatto sugli avvistamenti dei dischi volanti era che questi fossero solo una mania del dopoguerra, la quale sarebbe scomparsa rapidamente come gli Hula Hop. Ma i rapporti sugli UFO continuavano da arrivare, mentre il governativo Project SAE mutò prima nel Project Grudge nel 1949 e poi nel 1952 nel celeberrimo Project Blue Book. Durante quest'ultimo anno un'ondata di avvistamenti UFO aveva indotto EINEC ad iniziare a riconsiderare le sue opinioni in materia. Apertamente egli aveva ipotizzato che gli UFO potessero essere un nuovo tipo di fenomeno naturale che soprannominò luci serpeggianti notturne. Le idee possibiliste dell'astronomo risultarono talmente evidenti che il capitano Edward Rappert, primo direttore del Project Blue Book, giudicò EINEC essere eccessivamente pro-UFO. L'astronomo giustificò allora questo cambiamento del suo pensiero imputandolo a due elementi fondamentali. Il primo era posto in relazione all'atteggiamento completamente negativo e inflessibile dell'Air Force. Disse che ogni cosa doveva avere per l'aviazione una spiegazione. Cominciai a risentirmi di questo anche se fondamentalmente la pensavo allo stesso modo perché sentivo che non stavano affrontando il problema nel modo giusto. Il secondo elemento scaturiva invece dal calibro dei testimoni che secondo l'astronomo producevano in lui un certo turbamento. Al proposito EINEC scrisse Ad esempio non pochi casi venivano segnalati da piloti militari e sapevo che questi erano piuttosto ben addestrati pertanto questo mi indusse a pensare che beh forse c'era qualcosa di vero in tutto questo. E' agli inizi del 1960 che EINEC cominciò ad affermare, seppur da dietro le quinte, che gli UFO meritavano un serio esame scientifico. Proprio in quello stesso anno e gli scrisse questa emblematica lettera ad un ufficiale delle Air Force. Voglio solo ricordarti che meno di due secoli fa l'intera questione delle meteoriti venne esclusa dalla considerazione dell'astronomia ufficiale perché i racconti delle pietre che cadevano dal cielo erano considerati come storielle da vecchie comare. Se a questi racconti fosse stata data invece una giusta attenzione da parte degli scienziati di quel tempo, quel fertile ramo dell'astronomia che oggi conosciamo come meteoritica sarebbe nato oltre un secolo prima di quanto non è avvenuto. Negli anni seguenti EINEC ricorse spesso alla citazione di questo episodio della storia dell'astronomia quale elemento di sostegno e giustificazione alla sua decisione di divenire uno schietto sostenitore del fenomeno UFO. Le reali opinioni di EINEC sugli UFO erano ancora sconosciute al grande pubblico quando l'astronomo che allora insegnava alla Northwestern University incontrò per la prima volta nell'autunno del 1963 il citato Jacques Vallée. Lo scienziato francese, dopo aver accettato un incarico come programmatore di computer presso questo ateneo, divenne ben presto amico intimo di EINEC. Il loro sudalizio diede presto vita ad un gruppo di discussione sugli UFO che l'astronomo volle soprannominare come il Collegio Invisibile. Il riferimento è chiaramente ad una certa élite rosa-cruciana che si costituì agli inizi del 1600. Un circolo segreto di filosofi ed intellettuali sedicenti custodi di certe conoscenze esoteriche. Vallée, convinto che il fenomeno UFO fosse degno di una serie analisi di carattere scientifico, si adoperò quindi a tentare di convincere EINEC a rompere con l'Air Force e a fargli ammettere pubblicamente che tutta la questione dovesse essere affrontata in ambito accademico. Tuttavia il consulente scientifico di lunga data del Project Blue Book, che rimaneva ancora noto come un fedele critico degli UFO, resistette ostinatamente a questo consiglio. In verità EINEC aveva troppo da perdere per sbilanciarsi troppo in favore degli UFO. Fino ad allora aveva infatti goduto di una reputazione di tutto rispetto in ambito astronomico, grazie alla pubblicazione di un considerevole numero di articoli scientifici su riviste di settore, sebbene a onor del vero la sua maggior fama dipendesse più dal suo lavoro dietro una scrivania che dalla sua attività con il telescopio. Il professore era stato infatti direttore dell'Osservatorio McMillan nell'Ohio, co-direttore del programma di localizzazione satellitare denominato Operazione Moonwatch, segretario della American Astronomical Society, è il principale motivatore del Project Skygazer, un programma astronomico realizzato con palloni sonda. Con un tale curriculum alle spalle è comprensibile che EINEC non fosse così ansioso di rischiare la sua reputazione e la sua carriera in nome degli UFO. In realtà l'astronomo sperava di incontrare, secondo le parole di Vallée, quell'unico grande caso che nessuno sarebbe stato in grado di negare poiché l'evidenza sarebbe stata schiacciante. E finalmente il 24 aprile del 1964 quello sperato unico grande caso si presentò, o almeno così parve. Quel giorno, a soccorro nel Nuovo Messico, il poliziotto Lunizamora si trovava all'inseguimento di una spider con la sua auto di servizio quando improvvisamente udì un boato e vide una fiammata nel cielo. Indagando, Zamora individuò un oggetto a forma di uovo di alluminio bianco con delle gambe che si estendevano a terra e notò due figure umanoidi bianche munite di mantello che stavano nelle vicinanze. Il poliziotto tentò cautamente di avvicinarsi all'oggetto ma, fatti pochi passi, questo iniziò ad emettere dei fortissimi rumori che indussero Zamora a fuggire verso la sua macchina. L'UFO a questo punto decollò verso il cielo e scomparve velocemente alla vista. Incalzato dai mezzi di informazione, il Maggiore Hector Quintanilla, direttore del Project Blue Book, fu costretto a convocare Aenec a soccorro per indagare sul presunto avvistamento. Presso il luogo dell'atterraggio, Aenec poté esaminare alcune piante carbonizzate e verificare la presenza di quattro tracce lasciate nel terreno. Inoltre raccolse la diretta testimonianza di Zamora. Al termine delle sue indagini, l'astronomo lasciò il Nuovo Messico, confessando però ad un giornalista del Chicago Tribune, «Sono più perplesso ora di quando sono arrivato». Tuttavia mise anche che fosse assolutamente certo che Zamora avesse effettivamente visto qualcosa. Malgrado questo evento, che Aenec e Vallée posero spesso al centro dei loro confronti, l'astronomo rimase comunque riluttante a confessare pubblicamente di essere pro-UFO. Aenec. 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 Grazie a tutti. Le cose cambiarono però nella primavera del 1966. Il 20 marzo di quell'anno decine di persone riferirono di aver avvistato degli oggetti incandescenti librarsi su una palude nei pressi di Han Harbor nel Michigan. E la notte seguente 87 studenti del Hilesdale College, sempre nel Michigan, affermarono di aver visto strane luci rosse, bianche e blu. Gli avvistamenti del Michigan ricevettero una massiccia copertura mediatica e il maggiore Quintaniglia, ancora una volta, inviò sul campo Hynek, il quale si precipitò in Michigan e condusse la sua indagine in un clima di semisteria, perseguitato quasi ad ogni suo passo da giornalisti e cameraman. Dopo aver intervistato 32 testimoni e conferito con diversi professori dell'Università del Michigan, Hynek concluse che almeno due degli UFO del Michigan potevano essere ricondotti ad esalazioni di gas di palude, perciò ai cosiddetti fochi fatui. Il 26 marzo Hynek annunciò le sue scoperte in una gremita conferenza stampa a Detroit, definita dalla locale Camera dei Rappresentanti come il più grande evento nella storia del Detroit Press Club. Dopo aver suggerito il gas di palude come probabile spiegazione di alcuni avvistamenti degli UFO del Michigan, Hynek ammise in un'intervista rilasciata a Los Angeles Times che «Naturalmente non potrei mai provare in un tribunale che questa sia la reale spiegazione di questi avvistamenti». Ma la maggioranza dei media ignorò questa precisazione e la conseguenza fu che Hynek divenne immediatamente uno zimbello nazionale per la sua teoria sul gas di palude, tanto da venire satireggiato persino nei cartoni animati e biasimato nei vari editoriali per essere un burattino dell'Air Force. La teoria del gas di palude di Hynek attirò pure l'attenzione e le ire di Gerald Ford, il potente deputato repubblicano del Michigan e futuro presidente degli Stati Uniti. In risposta Ford chiese subito al Comitato dei Servizi Armati della Camera degli Stati Uniti di indagare sul fenomeno UFO, dichiarando che «il pubblico americano meritava una spiegazione migliore di quella finora proposta dell'Air Force». Ovviamente la spiegazione a cui alludeva Ford era esattamente quella fornita da Hynek. Il desiderio del leader della minoranza della Camera era equivalente a un comando e così l'udienza sugli UFO ebbe luogo solo una settimana dopo che l'ex presidente americano aveva fatto la sua richiesta. Il 5 aprile 1966 Hynek operò la sua prima rottura pubblica con l'Air Force e lo fece cogliendo coraggiosamente l'occasione della sua testimonianza davanti alla Commissione delle Forze Armate. Ferito dalla critica sui gas di palude, l'astronomo evidentemente voleva dimostrare che non era il burattino né dell'Air Force né di chiunque altro. In una dichiarazione non autorizzata dal Maggiore Quintanilla, direttore del Project Blue Book, Hynek disse ai parlamentari riuniti in seduta che c'erano aspetti del fenomeno UFO degni di attenzione scientifica e richiese la creazione di un gruppo composto da fisici e scienziati sociali al fine di analizzare seriamente quello che definì il problema UFO. In ogni caso, l'episodio dei gas di palude aveva ormai influito profondamente nella personalità dell'astronomo, tanto che in una dichiarazione pubblica egli tentò di giustificare il suo voltafaccia con questa emblematica affermazione. Cominciai a sentirmi in colpa per il mio atteggiamento scettico. Quando si aprono le porte alla possibilità che tutta questa gente forse possa non aver sbagliato, allora vedete un sacco di altri casi in una luce completamente diversa. Tuttavia, come avevamo detto, l'atteggiamento scettico di Hynek era in realtà una facciata d'uso pubblico. Infatti, come qualche critico aveva rilevato, era certamente possibile che un ex studioso di esoterismo, come lo era stato lui, fosse piuttosto aperto a nozioni stravaganti. Hynek, ad esempio, come testimonia Jacques Vallée, aveva sostenuto che ci fossero piani di esistenza al di là di quello fisico e aveva pure ammesso presunti casi di chirurgia psichica e di fotografia psichica. Tuttavia, ad un Hynek arrabbiato e imbarazzato, ci volle il furore dei media sull'episodio dei gas di palude per convincerlo ad ammettere pubblicamente le opinioni che da tempo aveva sugli UFO. Fu sicuramente una decisione rischiosa per Hynek, sebbene non così tanto come lo sarebbe stata se l'avesse presa pochi anni prima. In ogni caso, da allora, la carriera di astronomo di Hynek si arrestò nel mezzo di una grande strada aperta. Come già anticipato, nel 1957 Hynek aveva promosso, in collaborazione con l'Air Force, un programma basato sul lancio di palloni di sonda per l'astronomia, in seguito denominato Project Stargazer. Il piano era quello di inviare degli aerostati equipaggiati con dei telescopi al di sopra degli strati più bassi dell'atmosfera, quelli che causano la distorsione delle immagini. Purtroppo, una serie fallimentare di lanci di prova spinsero l'Air Force a ruttamare il Project Stargazer nel 1963. La decisione fu devastante per Hynek, il quale sembrava aver puntato tutta la sua carriera professionale sul successo del progetto. In una graffiante relazione finale per l'Air Force, l'astronomo non si trattenne. In ogni caso, scrisse, l'annullamento di un progetto che ha coinvolto moltissime persone per un vasto periodo di tempo, in un momento in cui il successo sembrava assicurato, potrà essere incluso negli annali scientifici solo come un atto criminale, portato a termine in modo crudele e senza riguardo per i desideri, gli obiettivi e gli ideali delle persone coinvolte. La domanda che molti critici si erano allora posti nell'osservare il cambio di rotta di Hynek a favore degli UFO era, poteva essere questo atteggiamento dell'astronomo una sorta di suo tentativo, seppur inconscio, di tornare presso l'Air Force a causa del siluramento del Project Stargazer? Come Hynek aveva raccomandato durante la sua testimonianza il congresso, l'Air Force si decise a finanziare immediatamente uno studio scientifico sugli UFO scegliendo il rinomato fisico Edward Condon dell'Università del Colorado a dirigerlo. Dopo tre anni di contenzioso, nel 1969, il Comitato Condon concluse che un ulteriore studio approfondito sugli UFO forse non può trovare giustificazione nell'aspettativa che, in tal modo, la scienza potrà avanzare. Naturalmente, come era prevedibile, Hynek respinse la relazione della Commissione definendola una perdita di tempo. Ma l'Air Force proseguì lo stesso e chiuse il Project Blue Book in quello stesso anno. Il professore rimase quindi da solo a condurre le sue investigazioni sugli UFO. Tornando al 1966, in quell'anno Hynek aveva scelto il più grande megafono che poteva trovare per annunciare la sua nuova carriera come avvocato degli UFO. Inviò, infatti, una lettera bomba alla prestigiosa ed ampiamente letta rivista Science in cui sosteneva che gli UFO meritavano l'indagine scientifica. A malincuore, la redazione di Science pubblicò la lettera, ma solo dopo che l'astronomo aveva fatto trapelare il suo contenuto al Chicago Sun-Times. Successivamente, Hynek scrisse degli articoli sugli UFO per alcune pubblicazioni nazionali, quali The Saturday Evening Post, The New Yorker e anche per Playboy, e divende una presenza ubiquitaria in numerosi spettacoli televisivi e radiofonici. Nel suo diario, Jacques Vallée scriveva «Gli operatori dei media assumevano Allen come avrebbero assunto un chittarrista, aggiungendo ancora con enfasi che lui corre ovunque vede un riflettore e se i riflettori si muovono, egli si muove con essi». Purtroppo, però, l'ampia fama che Hynek acquisì la pagò a caro prezzo. Infatti, perse completamente il rispetto dei suoi pari nella comunità scientifica. Citando ancora Vallée, leggiamo «L'atteggiamento dei suoi colleghi verso di lui sta raggiungendo il punto del disprezzo e questo lo addolora». E più avanti ancora «Non è più preso sul serio tra gli astronomi». Determinato a dimostrare i suoi colleghi che sbagliavano, Hynek iniziò a lavorare su un libro che a sua detta avrebbe conferito un approccio scientifico allo studio sugli UFO. E così, nel 1972, vide alla luce il volume «The UFO Experience – A Scientific Inquiry», nel quale Hynek sosteneva la realtà del fenomeno UFO in maniera secca e come un dato di fatto. Tuttavia, questo libro divenne famoso più per la sua classificazione delle esperienze UFO che per il suo tenore scientifico. Tali esperienze sono così classificate, incontri ravvicinati del primo tipo, gli avvistamenti, del secondo tipo, gli avvistamenti con effetti fisici e del terzo tipo, gli avvistamenti di occupanti degli UFO. Purtroppo per Hynek, «The UFO Experience» causò però ulteriore danni alla sua posizione accademica. Secondo un amico astronomo di Vallée, il libro di Hynek ha creato un antagonismo in seno alla facoltà della Northwest University e lo ha reso una figura controversa. Nonostante un'onesta recensione in Science Magazine, molti professori hanno ritenuto che la reputazione della scuola sia stata contaminata. Infatti, parlando ai suoi colleghi di difficoltà nel 1982, Rudolf Weingartner, decano della Northwest College, dichiarò categoricamente ad un funzionario dell'università. Non siamo, non siamo stati e non saremo orgogliosi delle faccende sugli UFO di Hynek. «Ci sono molti che pensano che ciò che egli fa non ha nulla a che vedere con la ricerca». Di fatto, per quanto Hynek si fosse davvero impegnato a fondo per ripristinare la sua posizione scientifica, con il suo atteggiamento ottenuto nel corso dei primi anni 70, non aveva di certo favorito le cose. L'occhialuto astronomo Colpizzetto era divenuto uno spettacolo familiare per i telespettatori americani dell'epoca, il quale pontificava sul problema UFO sui maggiori programmi popolari. Verso la fine del 1973, lo troviamo ad approvare attraverso le pagine del Los Angeles Times le dichiarazioni di un rapimento alieno avvenuto a Pascagoula, nel Mississippi, di due operai dei cantieri navali, affermando che gli uomini avevano vissuto una vera e propria esperienza. Poco dopo, invece, si unì ad un gruppo sugli UFO formata dal National Enquirer, il quale proponeva in pompa magna un premio di 50.000 dollari alla prima persona in grado di dimostrare al gruppo che gli UFO provengono dallo spazio e non sono fenomeni naturali. In un'altra spettacolare apparizione pubblica del 1977, Haynek si prestò invece a far da comparsa in una sequenza del film Incontri ravvicinati del terzo tipo di Steven Spielberg. Oltre a tutto ciò, l'astronomo si ricavò anche una certa popolarità all'interno del circuito universitario delle lezioni private. È nell'autunno del 1973 che a seguito di un'ondata di presunti avvistamenti, l'astronomo costituì il Center for UFO Study, Centro per lo Studio sull'UFO con la speranza di insediarlo nel campus della Northwestern University. Tuttavia i funzionari dell'università respinsero categoricamente queste idee. Gli amministratori della scuola insistettero sul fatto che non vi era alcun collegamento tra il centro sull'UFO e la Northwestern. Ad Heineck non fu nemmeno permesso di usare il suo recapito postale presso la Northwestern per ogni corrispondenza correlata al suo centro. Tale atteggiamento delle autorità accademiche sollevarono le proteste del professore il quale inviò una serie di lettere arrabbiate in una di esse invei in questo modo. Francamente sono abbastanza in imbarazzo a dire che l'università è stata così conservatrice da non vedervi il potenziale sia per la scienza che per la pubblicità e naturalmente sono personalmente offeso dall'insinuazione che il soggetto sia una pura sciocchezza e che chiunque sia collegato ad esso sia un pazzo per dirla schiettamente. Ritiratosi dalla Northwestern nel 1978 Heineck si immerse completamente nelle attività del suo centro per lo studio sugli UFO. Pur avendo una buona e comprovata esperienza come organizzatore di raccolta fondi era riuscito a ottenere denaro da donatori privati per l'Indymer Astronomical Research Center della Northwestern Heineck faticava a dare una solidità finanziaria al suo centro ufologico. Ricchi aspiranti benefattori spesso lo allettavano con offerte di sostegno monetario ma alla fine lo abbandonavano a se stesso. Infine nel 1984 Heineck si decise ad imballare i suoi file di ricerca e a trasferire il suo centro sugli UFO a Scottsdale in Arizona attirato lì da un ricco inglese con promesse di denaro e l'uso della sua lussuosa abitazione. Ancora una volta l'astronomo era destinato alla delusione. Questo strambo mecenate sostenne Jacques Vallée era interessato solo a circondarsi di alcuni scienziati per promuovere le sue teorie personali circa il fenomeno UFO. Ma quali erano davvero le idee di Heineck sugli UFO? Di fatto il professore risultava essere spesso piuttosto evasivo quando gli veniva chiesto di spiegare le sue teorie sulla natura degli UFO. Nonostante la sua apparizione nel 1977 in incontri ravvicinati del terzo tipo da allora aveva iniziato a respingere l'idea che gli UFO fossero veicoli spaziali fatti di dadi e bulloni e pilotati da extraterrestri. Infatti come molti commentatori hanno rilevato i suoi studi esoterici lo avevano portato in una direzione molto diversa. Già nel 1967 aveva ipotizzato che gli UFO potessero essere dispositivi di osservazione di abitanti di un altro universo che si materializzano nel nostro mondo. In seguito offrì una variante di questa teoria. Gli UFO come proiezioni psichiche create da una intelligenza extradimensionale di qualche realtà parallela. Parlando all'ufologo Jerome Clark Hynek fu più specifico. L'astronomo avrebbe detto a Clark che riteneva che gli elementali gli spiriti della natura della tradizione esoterica occidentale fossero alla base del fenomeno UFO. Seppure le sorprendenti affermazioni di Clark possano lasciare stupiti è possibile comprenderle se torniamo a considerare i primi interessi esoterici di Hynek fortemente influenzati dal teosofo e massone austriaco Rudolf Steiner Steiner sosteneva che le scienze dure ovvero quelle fondate sui metodi rigorosi e sperimentali offrono all'umanità solo una grande quantità di informazioni popolari perciò secondo Steiner utilizzando il pensiero libero dai sensi l'individuo illuminato potrebbe squarciare il velo e scoprire cosa c'è dietro il mondo materiale rivelato dalla scienza dal punto di vista di Steiner gli elementali spiriti dell'aria della terra dell'acqua e del fuoco abitano in questo regno nascosto e inaccessibile ai sensi quindi se Hynek ha effettivamente creduto che gli UFO fossero spiriti della natura egli avrebbe potuto specificamente identificarli con quest'ultima classe di elementari ovvero quegli eterici e superiori esseri degli elementi gli esseri e esseri eterici fluiscono sulla terra la domanda che quindi può nascere spontanea è può essere possibile quindi che Hynek sospettasse che gli UFO non fossero altro che gli esseri eterici di Steiner che fluivano sulla terra per quei pochi che sapevano della fascinazione della fascinazione di Hynek per l'esoterismo il suo pezzo del 1975 su Johannes Kepler il più grande astronomo del 600 aveva un significato in più in questo breve articolo rivelatore Hynek sostenne che gli storici della scienza sbagliano nel liquidare la pratica astrologica di Keplero come qualcosa che gli fece solo per tenerla in vita e scrisse sia la sua astrologia di Keplero che l'astronomia crebbero e parteciparono al di fuori della sua profonda visione mistica Egli proseguì affermando che la moderna astronomia con i suoi concetti esotici come le quasar e pulsar e i buchi neri offrivano un vasto campo di gioco per il metafisico secondo Hynek c'era un legame tenue che collegava l'attuale pensiero metafisico dell'astronomia e il genere di metafisica di Keplero poiché entrambi i sistemi di pensiero sono il ricettacolo di questioni fondamentali non ospitati sul presente campo di gioco della scienza fisica Hynek apparentemente vedeva Keplero come uno spirito affine e in questo articolo non solo difese le credenze di Keplero ma evidentemente difese anche le sue stesse Non ho mai smesso di pensare a quello che deve trovarsi al di là di tutto questo disse una volta Hynek a Vallée in Colorado indicando con un ampio gesto le montagne rocciose e le grandi pianure per il professore gli UFO rappresentavano ciò che stava al di là quel punto che la scienza non poteva raggiungere divenuto un astronomo per scoprire i limiti della scienza è ipotizzabile che Hynek volesse credere negli UFO e che forse persino ne avesse bisogno Hynek morì di un tumore al cervello al Memorial Hospital di Scottsdale in Arizona il 27 aprile del 1986 sincronicamente la cometa di Halley stava facendo ritorno dopo un viaggio di 76 anni attraverso il sistema solare nei cieli del nostro pianeta come Mark Twain Joseph Allen Hynek era venuto al mondo con la grande cometa e partì pure con essa grazie di essere rimasti con noi fino alla fine se vi piacciono le nostre attività e volete aiutarci a crescere e a migliorare iscrivetevi commentate e condividete e se volete sostenerci nel box informazioni troverete tutti i link utili grazie e alla prossima